Una domenica di dicembre, splendide auto d'epoca e suggestivi sentieri enoturistici. Sulle strade del Magliocco, l'History Club ha riproposto la sesta edizione della gara di regolarità per automobili storiche che hanno attraversato paesaggi del Parco del Pollino e della Piana di Siberi. Quest'anno non solo una manifestazione per appassionati di auto d'epoca, ma un connubio con percorsi enoturistici grazie alla partnership stretta con le cantine ferrocinto, interessante realtà vitivinicola calabrese. Abbiamo scelto questo luogo oggi per questa manifestazione anche perché siamo proprio nella patria del Magliocco. Il Magliocco è un vitigno della nostra zona, autoctono della nostra zona, che si coltiva proprio sulle strade che abbiamo percorso questa mattina. Con oggi siamo arrivati alla sesta edizione e alla terza prova del trofeo Frenko Minasi. Frenko Minasi, il nostro Presidente onorario, che abbiamo iniziato insieme questo percorso con le auto d'epoca, con questo tipo di manifestazione, proprio per rendere partecipi a tutti quanti gli appassionati di auto d'epoca, di stare un giorno tutti quanti insieme. Con la scusa della regolarità, con la scusa del Magliocco, almeno stiamo tutti quanti insieme perché è una cosa che ci accomuna oltre alle macchine e alle belle cose che oggi visitiamo in questi luoghi.